Una partita strana, dopo 11 minuti eravamo 2-0, i primi due tiri in porta del Milan ci sono subito costati cari, una punizione e un inserimento lungo di Buonaventura che abbiamo battezzato male. È un peccato perché dopo rimettere in piedi le partite diventa molto difficile, anche se nel secondo tempo poi devo fare i complimenti alla squadra, c'è avuto una reazione importante, credo che non so quante squadre sarebbero riuscite a rimettere in piedi una partita del genere che a mio avviso poteva anche finire in pareggio. Però bisogna stare più attenti, i primi due gol, due palle perse, anche oggi in maniera secondo me che poteva essere gestita meglio. Poi l'ammazzata psicologica è normale, si paga, si paga. Non lo so, c'è stato sicuramente un po' di tutto, anche la voglia chiaramente di rimetterci in pista, i ragazzi lì hanno fatto bene, io voglio ringraziare anche la gente che sul 3-0 ci ha continuato a sostenere, specialmente all'inizio del secondo tempo. Il cambio trattico l'abbiamo fatto, ci siamo messi a specchio cercando di essere un po' più aggressivi, di andare a recuperare palla più velocemente possibile, è stata una cosa molto esasperata, con due terzini offensivi, due centrocampisti offensivi e tre attaccanti. Si può fare, l'importante è che ci sia equilibrio e quindi c'è da ragionarci, però sono tutte soluzioni che poi possono essere prese in considerazione.